Eccomi con un nuovo video! Oggi vi propongo cosa mangi in un giorno. Per prima cosa, questa mattina ho preparato un caffè. E l'ho accompagnato a tre fette biscottate integrali. Con sopra questa marmellata. Questa mattina ho utilizzato la marmellata di prugne. Ecco la marmellata di prugne. La mia colazione completa, 80 grammi di yogurt greco, tre fette biscottate integrali con la marmellata di prugne e un caffè. Il tutto accompagnato da un bicchiere di acqua naturale. Dopo aver fatto colazione, come quasi tutte le mattine, sono andata a fare una bella camminata. La mia colazione, come quasi tutte le mattine, sono andata a fare una bella camminata. La mia colazione, come quasi tutte le mattine, sono andata a fare una bella camminata. Tornata a casa, ho fatto uno spuntino con dei cracker integrali e delle mandorle. Per pranzo mi sono preparata circa 65 grammi di pasta, con 200 grammi di gamberetti e il radicchio biologico del mio orto. Ho già caricato sul mio canale YouTube la videoricetta completa di questo primo piatto. Vi lascio il link qui sopra. Vi lascio il link qui sopra. Vi lascio il link qui sopra. Per merenda mi sono preparata due fette di melone. Come potete vedere, ho accompagnato il melone con qualche mandorla. per cena invece sono preparata dell'insalata mista con della rucola, che ho condito con del sale e dell'olio. E' tutto il mio canale. E' tutto il mio canale. Come si può vedere ho condito il riso con l'olio e ho aggiunto sopra i covetti di petto di pollo. Il tutto l'ho accompagnato con l'insalata mista. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima!